Codemotion Va bene Buonasera, buonasera a tutti Mi presento, io sono Andrea Bey lavoro in Capgemini come si vede dal logo che è una società che si occupa di consulenza ad ampio spettro nell'ambito della consulenza offre anche dei servizi tecnologi e quindi tutto ciò che attiene al mondo anche del software, dallo sviluppo all'integrazione, al testing e l'utilizzo dell'open source che è proprio il tema di questo talk in particolare io mi occupo del coordinamento di una delle software factory di Capgemini Italia Capgemini ha tre software factory una alla Spezia, una a Roma e una a Napoli io mi occupo di quella di Roma che si concentra prevalentemente su un mercato di tipo enterprise una piattaforma java enterprise sull'offerta di servizi di testing sia diciamo modalità ASP sia all'interno del ciclo di vita del software e di servizi connessi all'open source da qui poi il motivo del talk di cosa vi volevo parlare in questo talk dell'open source in un'ottica particolare ovvero sappiamo tutti soprattutto gli addetti ai lavori che l'open source è un fenomeno diciamo molto ampio che abbraccia sia la comunità degli sviluppatori che sempre di più anche la comunità degli utenti finale però diciamo nell'adozione dell'open source da parte di grosse organizzazioni quindi sto parlando di ad esempio banche o importanti assicurazioni c'è sempre comunque qualche dubbio per via di tutta una serie di cose che poi andremo a dettagliare all'interno del talk ma che sono prevalentemente diciamo la mancanza della certezza di un supporto diciamo il fatto di non avere un contratto che diciamo ovviamente regola i termini dell'adozione e quindi a fronte di un'offerta sempre più ampia dell'open source e di una situazione in cui si va sempre più diffondendo l'uso all'interno delle organizzazioni ci sono dei freni e delle barriere che sono per queste grosse organizzazioni di questa natura allora da una parte stiamo assistendo al fatto che gli open source sono sempre più adottati in ambiti mission critical ovvero in quegli ambiti importanti fondamentali nevralgici per le aziende con livelli di servizio che sono ormai equiparabili ai prodotti commerciali basta pensare all'open source più di successo sotto gli occhi di tutti che è Linux in molti data center diciamo questo è il sistema operativo principe ovviamente sono sempre più interessanti per tutte quelle organizzazioni che danno importanza al fattore costo perché ovviamente non diciamo sono abbattuti totalmente i costi di acquisizione anche se poi vedremo ci sono dei costi nascosti che occorre considerare un altro fenomeno che è sempre più rilevante è che l'open source si sta muovendo verso l'alto nello stack tecnologico mentre diciamo fino a qualche anno fa i principali prodotti open erano relativi soprattutto ai livelli bassi dello stack tecnologico quindi sistemi operativi e quant'altro sempre di più si stanno spostando verso l'altro quindi verso l'utente finale e quindi percorrendo tutto diciamo tutto lo spettro di BMS application server fino a sistemi di portal per lo sviluppo di portali o sistemi di learning o di gestione documentale quindi questi sono diciamo i tre fenomeni che possiamo registrare oggi quali sono le previsioni ecco queste diciamo secondo quanto dice uno una delle società di consulenza di analisi più accreditate sul mercato che è Gartner allora le previsioni ci dicono entro il 2016 almeno il 95% delle organizzazioni IT adotterà dei sistemi open source all'interno dei propri asset informatici mission critical nel 2010 parlavamo di una diciamo di una penetrazione del 75% allora questo numero sembra molto alto però diciamo l'analisi è fatta considerando anche gli open source embedded in prodotti commerciali moltissimi prodotti commerciali al proprio interno diciamo contengono dei componenti open source quindi considerando sia questi ultimi sia gli open source palesi agli utenti finali quindi ad esempio appunto un sistema di document management cito al fresco per citarne uno diciamo si arriverà a una copertura del 95% questo a fronte però di una consapevolezza nelle grandi organizzazioni sulle modalità di gestione delle open source che tarda ancora ad arrivare per cui meno del 50% delle organizzazioni avranno strutturato un processo di gestione dell'open source e si saranno dotati di un'organizzazione interna che censisce gli open source all'interno delle aziende che ne disciplina l'utilizzo e ne detta i criteri per l'adozione quindi abbiamo questa diciamo doppia velocità un'ampia diffusione che spesso viene dal basso dei tecnici a fronte di una diciamo strutturazione dell'organizzazione del processo di gestione open source che tarda un po' ad arrivare quindi in questo contesto quali sono i principali driver per l'adozione perché l'open source è di interesse a tutti i livelli allora la prima cosa da citare è l'ottimizzazione dei costi e la flessibilità ovviamente riesco a ridurre notevolmente i costi di acquisizione non devo pagare delle licenze e questo agevola anche l'introduzione di un determinato sistema all'interno di un'organizzazione perché è più facile da provare è più facile da utilizzare in sperimentazioni ad esempio perché non ho costi di licenze e quindi è più agevole avviarlo poi alla produzione la possibilità di modifica ovviamente questa è una possibilità che non ho col software commerciale quindi quando devo realizzare un sistema che deriva dall'integrazione di tante componenti avere la possibilità di modificare il codice sorgente è per me diciamo un plus un vantaggio e poi non c'è il vendor lock-in cioè non mi lego ad una diciamo a un solo vendor di tecnologia l'altro elemento fondamentale è l'equilibrio che c'è tra l'innovazione e la stabilità l'open source nasce in un modello in cui la community che c'è di sviluppatori di contributori in genere è abbastanza ampia soprattutto per quelli più accreditati questo significa che avendo un'ampia platea di persone che possono contribuire e anche diciamo le condizioni per l'emersione di innovazioni sono più facilitate ovviamente e quindi molti degli open source introducono degli elementi innovativi che magari diciamo in realtà commerciali sono più tardive a recepire nel frattempo però ovviamente si ha bisogno di stabilità per cui gli sviluppatori cercano sì nuovi linguaggi nuovi framework perché per essere più produttivi però al tempo stesso cercano anche stabilità e affidabilità l'altro elemento importante è la stabilità attraverso il riuso molti degli open source sono stabili perché vengono riusati in moltissimi contesti e quindi testati da moltissimi utenti e resi ovviamente stabili dall'utilizzo dall'utilizzo stesso un aspetto che riguarda soprattutto i vendor è quello dell'ottimizzazione dei costi di ingegneria dicevo prima moltissimi software commerciali ormai al proprio interno hanno dei software open source magari componenti librerie che svolgono un particolare compito però questo fa sì che le ingegnerie quindi le strutture che ingegnerizzano questi software possano far leva da una parte sul riuso e da una parte anche qui sull'ottimizzazione dei costi quindi questi più o meno sono diciamo i driver a partire da quelli che riguardano più le organizzazioni che scelgono appunto l'open per avere una maggiore flessibilità e minori costi per passare su diciamo la community degli sviluppatori che diciamo adottano i tool open perché sono innovativi perché sono più diciamo sono un miglior veicolo di innovazione nell'ambito dello sviluppo del software arrivare fino ai vendor di tecnologia da un punto di vista invece dei rischi e delle barriere che cosa è che spaventa di più diciamo un'organizzazione nel lasciare magari una strada già percorsa su un particolare prodotto attraverso un vendor commerciale e diciamo passare a una strategia open allora innanzitutto i rischi che riguardano proprio il primo punto di contatto i rischi nell'acquisizione di fatto diciamo a meno che non stiamo parlando di open source che hanno il meccanismo del dual licensing per cui c'è la versione enterprise e la versione community non esiste un punto di contatto commerciale con cui instaurare un rapporto una negoziazione un contratto e questo ovviamente è un po' insolito per un'organizzazione e un procurement che è invece abituato ad avere dall'altra parte diciamo dei referenti commerciali e questo è un elemento che spaventa nessun benchmark per i costi nascosti diciamo prima l'open source è a costo zero ma dire questo significa non tenere conto di alcuni costi nascosti che possono ovviamente esserci legati al diciamo alla messa in produzione dell'open source ad esempio al fatto che spesso occorre coprire dei gap rispetto a uno strumento commerciale che invece porta con sé l'open source quindi ci sono tutta una serie di elementi da considerare per quanto riguarda l'acquisizione poi ci sono i rischi nel deployment ovviamente perché un'organizzazione che sta scegliendo di andare su un open source si deve porre dei problemi ad esempio devo migrare ciò che già ho su questo nuovo sistema e quindi questo comporta dei rischi e dei costi chi certifica questo strumento non c'è un ente un vendor che mi certifica che mi certifica il buon comportamento funzionale in esercizio di un open source mentre invece in altri ambiti ovviamente c'è la società che offre il prodotto gli skill interni e dei partner e in generale la paura al cambiamento che c'è sempre insomma su qualsiasi ambito poi abbiamo rischi sullo sviluppo documentazione diciamo a volte molto esaustiva a volte carente i servizi di training che non sempre non per tutti gli open source esistono per passare poi ai rischi della gestione operativa mancanza di garanzie per citarne uno o diciamo rischi ecco importanti nell'evoluzione laddove io scelgo un open source non ho una roadmap di sviluppo chiara di quel prodotto ovviamente perché diciamo la roadmap di un open source è un po' la somma vettoriale di diverse spinte che arrivano dalla comunità dalla necessità di innovare dall'opportunità di innovare e questo può spaventare un'organizzazione che invece magari sta pianificando l'acquisto di un asset che deve andar bene diciamo per un po' di tempo l'altra cosa è il tasso delle modifiche è variabile quando io ho un vendor in genere ho una serie di release di aggiornamenti all'anno con una cadenza meno o meno periodica c'è una struttura un processo di product management che riceve i feedback e le esigenze dagli utenti diciamo crea dei lotti di modifiche e poi li mette in campo in una release ecco questi sono un po' i rischi e le barriere diciamo connessi all'adozione di asset di sistemi open source da parte delle grandi organizzazioni allora come fare diciamo se ci si trova a dover consigliare un diciamo un team manager di un di un'organizzazione che vuole includere nel proprio processo di software selection anche degli asset open quali sono gli strumenti e le fonti di dati da poter utilizzare allora si hanno a disposizione da utilizzare scusate alla fine con la finalità di dimostrare la maturità di un asset open source maturità che cosa all'essere comunque recepito all'interno di un contesto di esercizio di un contesto enterprise e in qualche maniera mitigare tutti quei rischi che abbiamo visto prima allora da una parte abbiamo ovviamente tra le diverse fonti da utilizzare i repository stessi noi abbiamo diciamo tutti i repository diciamo che sono che ospitano dei progetti open source che sono delle notevoli fonti di informazione perché è possibile capire di quante persone è composta la comunità a che livello diciamo di release si è e quant'altro i principali osservatori e qui diciamo ne cito due ma ovviamente diciamo sono solo un esempio però sono quelle società che fanno analisi di mercato e di conseguenza possono forniscono dei report che ci possono dare un'idea del livello di maturità di una categoria di open source o di un particolare open source e ne vedremo alcuni esempi infine ci sono delle directory che contengono delle diciamo una sorta di censimento degli open source presenti sul mercato con gli attributi per ciascuno di questi open source e dei meccanismi di rating che ci permettono di capire se l'open source di cui stiamo parlando è consolidato se ha una community attiva se in una parola se è maturo è un buon candidato insomma per poter essere inserito in una software selection che deve produrre la decisione su un sistema da mettere in esercizio in un'organizzazione enterprise infine infine in ultimo ci sono una serie di metodi di assessment della maturità che cosa di cosa si tratta sostanzialmente di metodologie che ci consentono raccogliendo dei dati sull'open source o sugli open source che vogliamo candidare per poter scegliere un prodotto una software selection ci permettono di derivare una valutazione una valutazione tenendo conto tanti aspetti che vanno dagli aspetti che riguardano la community ad aspetti che riguardano l'adozione nel contesto specifico o quelli che riguardano proprio di fatto l'open source in sé come aspetti architetturali quali la modularità l'integrabilità con altri componenti allora di questi ce ne sono quattro fondamentalmente uno è l'OSMM che sta per open source maturity model che è stato creato appunto da Capgemini un altro che si chiama come il primo che però è stato prodotto da una società che si chiama Navica QSOS e OpenDRR allora a parte i repository che insomma non è il caso di spendere tempo perché diciamo comunque sono pubblicati su internet e non sono altro che ovviamente dei contenitori di progetti di progetti open source per cui non ci sono dei meccanismi diciamo di rating la finalità è più che altro aggregare in appunto contenitori che non valutare iniziamo da quelli che sono gli osservatori partendo da una diciamo rappresentazione tipica dei report che fa Gartner ecco questa volta diciamo questa è una curva è una curva che in generale vale per tutte le tecnologie è una curva tipica di questa società di analisi che è Gartner è interessante questa che riguarda l'open source e diciamo che è abbastanza recente di agosto 2012 e mostra un po' quali sono gli ambiti tecnologici open source più maturi ritenuti più maturi dalla comunità degli utilizzatori ecco diciamo in questo report questo è un report ovviamente non della maturità ma della percezione della maturità da parte degli utenti finali che è importante diciamo la distinzione allora due parole per chi non conosce questa rappresentazione su come si legge innanzitutto cosa c'è in ordinata cosa c'è in ascissa in ordinata c'è la misura delle delle aspettative in ascissa ci sono diciamo tutte le fasi che un prodotto qualsiasi in questo caso l'open si trova a percorrere si trova a percorrere da quando viene lanciato il prodotto fino a quando poi viene adottato diciamo a regime allora c'è la prima fase che vedete ha un innalzamento immediato delle aspettative perché diciamo è la fase che diciamo segue subito a valle del diciamo del lancio del prodotto e quindi si arriva molto facilmente al picco spesso senza una motivazione sostanziale solo perché ovviamente c'è un lancio un'innovazione che porta con sé il prodotto diciamo questo periodo di picco dura poco e poi si scende subito nell'aspettativa questo perché il lancio fa sì che il prodotto venga diffuso ampiamente venga adottato venga spinto ai limiti anche laddove diciamo non è applicabile e quindi si hanno i primi fallimenti un po' perché diciamo si spinge e si adotta in situazioni di non applicabilità perché diciamo gli utilizzatori ancora non ne hanno capito i contorni un po' perché è in una fase ancora iniziale quindi il prodotto di per sé può essere ancora immaturo e quindi c'è c'è una fase di declino delle aspettative per cui diciamo la comunità degli utilizzatori perde un po' l'interesse nei confronti del prodotto ed è questa è la fase più produttiva perché diciamo perché è una fase di selezione cioè quelli che lo utilizzano dopo questa fase sono quelli che veramente sono intenzionati a sperimentare e utilizzare il prodotto quindi ne studiano bene l'applicabilità forniscono feedback in questo caso alle community che consolidano il prodotto e quindi lo avviano verso quello che si chiama diciamo il plateau della produttività e verso l'utilizzo diffuso l'utilizzo mainstream come viene chiamato come viene chiamato la carta ecco interessante qui se vogliamo ci sono molti punti su molte tecnologie se vogliamo guardarne un paio un paio interessante qui diciamo la posizione dei portali open source che fino all'ultima curva di questo tipo era molto arretrata questa è diciamo l'accelerazione che hanno avuto alcuni portal server open source ne cito uno per tutti l'ifrey ad esempio su cui diciamo proprio un'esperienza diretta diciamo tangibile per alcuni clienti parlo di banche che fino a qualche anno fa non avrebbero mai adottato uno strumento open adesso hanno scelto questo come strumento per il loro portale istituzionale quindi questo diciamo dà a mio avviso la misura di come una tecnologia è arrivata a questo livello al plateau della produttività ok l'altro report diciamo utile sempre di Carter che viaggia viaggia di pari passo col primo è la matrice la priority matrix che mostra sostanzialmente il livello di beneficio nell'adozione di una determinata tecnologia in questo caso specifico open source per cui anche questo potrebbe essere un buon indicatore perché diciamo un'analisi di mercato mi dice che adottando ad esempio come in questo caso un DBMS open source un MOM open source un sistema di un middleware di messaggio oriented o dei portali open source io avrò un beneficio moderato quel beneficio è espresso in termini o di ricavi o di risparmio sui costi lo intende così diciamo Gartner per cui io lo posso avere moderato alto basso qui diciamo c'è una parte di grafico che non viene mostrata oppure potrei avere questo diciamo questo primo livello che è un livello che va oltre anche il beneficio sui ricavi e sui costi ovvero adottando diciamo qualcosa che si dovesse trovare qui io avrei un cambiamento nelle dinamiche di vendita diciamo aziendali quindi qualcosa che mi apre a nuove possibilità che a nuove possibilità di supporto a nuovi processi che in questo momento non ho ecco a cosa mi è utile questo nell'ambito del di cui stiamo parlando a capire se l'area che di interesse è un'area che viene ritenuta matura quindi se a me un potenziale cliente mi dovesse chiedere cosa ne dici di inserire nel nostro nel nostro portafoglio di di software selection un un portal open source io diciamo avendo questa fonte potrei non solo in qualche maniera assicurarlo perché diciamo ci stiamo trovando in una situazione diciamo abbastanza a rischi abbastanza contenuti ma gli potrei dare anche lo potrei aiutare anche con un'indicazione chiara che gli sta dicendo che con l'adozione ci si aspettano dei vantaggi anche da un punto di vista del risparmio dei costi in questo caso questo ovviamente non significa scegliere l'open source significa però dare un'indicazione intanto sull'ambito no che potrebbe essere quello dei portali come potrebbe essere quello dei sistemi di learning che è un altro diciamo che è un altro ambito abbastanza maturo poi il passo successivo è ovviamente una volta che si è deciso che quell'ambito in qualche maniera è trattabile anche con strumenti open come fare ad andare a valutarli ecco qui prima di mettere in modo un sistema di assessment diciamo il suggerimento è vedere che cosa si dice nelle directory che sono appunto come dicevo prima dei censimenti di open con dei rating che riguardano per esempio in questo caso sia aspetti di funzionalità di maturità e di community questo per esempio è una di questi directory che è l'enterprise open source directory che fino a qualche tempo fa era di un'organizzazione privata adesso è stata acquistata proprio per diciamo promuovere l'utilizzo dell'open source da una fondazione senza fini di lucro che è l'open source business foundation che svolge proprio questo ruolo quindi raccoglie le informazioni sull'open source e dà una valutazione ovviamente questa è una screenshot del portale però all'interno diciamo di ciascuno di questi item è possibile ricavare moltissimi dettagli moltissime informazioni quindi questo ovviamente è un altro passo che mi può aiutare ad esempio a selezionare una lista breve di asset open source su cui puoi fare un ulteriore approfondimento in base ai requisiti specifici del cliente vedete qui diciamo l'altra cosa da notare è che diciamo c'è sia una directory che riguarda tutti gli asset software sia interessante anche una directory di service provider questo è un altro elemento fondamentale perché dicevo prima una delle barriere all'adozione uno dei rischi era il fatto di non avere un supporto a cui chiedere di risolvere un determinato problema ecco diciamo questo è parzialmente vero perché ci sono molti service provider e qui sono ne troviamo alcuni elencati diciamo ovviamente cliccando sul sito che sono specializzati su determinati asset open per cui è possibile instaurare con loro un contratto solo di supporto altra cosa è la suddivisione vedete in diverse categorie per cui ho sia le applicazioni sia le soluzioni infrastrutturali lo sviluppo di software e tutto ciò che riguarda le operation quindi ad esempio gli strumenti che consentono di fare system network management un'altra fonte interessante per poter dare anche qui una diciamo un'indicazione un'indicazione di contesto che è diversa dalla prima perché non è una vera e propria directory è Flow Small che è una una collezione di dati sull'open source interrogabile anche con delle query custom che ci permette ad esempio di fare delle analisi su quale sia la licenza più utilizzata piuttosto che vedere mediamente su un particolare repository di quanti utenti si compone una community o vedere quanti quanto dura mediamente un progetto un progetto open source molti progetti sono di successo e sono quelli che conosciamo di più ma a fronte di pochissimi di successo ce ne sono numerosi numerosi che falliscono ecco diciamo questi elementi li possiamo derivare questi elementi più statistici li possiamo derivare da siti di tipo diverso rispetto a quello di prima che trattano solo la numerosità arriviamo invece ai modelli di maturità allora i modelli di maturità hanno come obiettivo tutti quanti dato un particolare open source di interesse derivarne un valore che dia la misura della maturità maturità a fare cosa maturità ad essere diciamo comunque inserito in un contesto di esercizio con le stesse caratteristiche che può avere un software commerciale allora ce ne sono diversi realizzati da società diverse vedete quello più anziano è questo su cui diciamo faremo un dettaglio che è quello di Capgemini poi ne sono ne sono nati diversi più articolati perché è importante conoscerli se interessa ovviamente l'argomento conoscerli tutti perché diciamo questi possono comunque essere adottati tutti quanti con un impegno diverso ad esempio lo SMM di Capgemini quello che vediamo che diciamo funziona su due dimensioni è un metodo di assessment abbastanza semplice che non comporta diciamo un'enorme quantità di dati ovviamente essendo più semplice potrebbe essere meno esaustivo e trattare meno diciamo aspetti rispetto a quelli diciamo nati successivamente oltre a essere più semplice e anche per questo motivo forse il più tra virgolette didattico e quindi approfondiamo principalmente questo si può chiedere la licenza l'aspetto della licenza che posso sì allora diciamo come diciamo come anche il software anche il metodo di assessment diciamo ha una licenza nel senso che può essere diciamo utilizzato e in maniera diciamo in qualche modo gratuita con tutti con tutti i dettagli oppure no ovviamente in tutti quanti diciamo i casi è possibile utilizzare il metodo per conto proprio la cosa che può essere differente è l'avere già dei dati su determinati asset oppure meno però ad esempio allora il metodo il metodo cap-general è veramente semplice ne parleremo fra poco e quindi diciamo l'adozione è pubblica perché non lo avevo usato inizialmente quindi stavo preoccupato no 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 quale avete utilizzato? l'OSMM ah l'OSMM quindi vabbè voi conoscerete lo conoscerete bene allora di cosa di cosa stiamo parlando quali sono le caratteristiche allora vi dicevo è stato fatto nel 2003 quindi ormai un bel po' di anni fa però è ancora attuale perché diciamo le caratteristiche dell'open source gli open source si innovano cambiano ma le caratteristiche rimangono ovviamente ovviamente le stesse riguarda gli aspetti di prodotto di utilizzo di diciamo accettazione intesa come adozione da parte degli utenti facilità nell'adozione e integration allora per quanto riguarda per quanto riguarda il prodotto il focus è ovviamente sulle caratteristiche interne dell'open source quindi si va a vedere l'età la licenza che è un elemento fondamentale per poi capire se è utilizzabile o meno e in che contesti diciamo l'organizzazione della community se c'è una persona che guida gli aspetti gerarchici se c'è solo una persona che guida tutta la community oppure in qualche maniera il contributo anche decisionale alla roadmap è distribuito la numerosità della community anche questo è un elemento determinante e gli aspetti di distribuzione e di vendita per quanto riguarda l'integration gli elementi fondamentali sono quanto è integrabile il prodotto con diciamo il contesto d'utilizzo in senso più lato possibile quindi quanto è modulare quanto collabora con altri prodotti quanto e in che misura adotta gli standard gli standard de fatto gli standard diciamo veri e propri allora per quanto riguarda l'uso il supporto la facilità di metterlo in di deployarlo e per quanto riguarda l'acceptance misura il livello con cui il prodotto è ricevuto dalla comunità degli utenti tutti questi tutti questi elementi sono poi suddivisi e viene fornito un livello di punteggio che qui vediamo distribuito tra 1 a 5 in base a delle caratteristiche ecco qui c'è una prima indicazione senza percorrere adesso diciamo uno per uno tutti gli elementi vediamo il prodotto prende un punteggio 1 se ha un'età un'anzianità diciamo di servizio inferiore ai due mesi viceversa tra 1 e 2 anni prende un punteggio 3 maggiore di 3 anni prende un punteggio molto alto anche per il discorso che facevamo prima per la volatilità di questi progetti se un progetto open source ha resistito 3 anni è un progetto che ha dato prova di avere una certa solidità e insomma senza leggere tutti gli altri attributi questa è un po' la filosofia ecco vediamo un altro giusto come esempio il livello di supporto diciamo prima è un elemento fondamentale si prende un punteggio 1 che è il minimo se il supporto è così sulla base del volontariato che c'è di Arola Community perché è chiaro che un livello di servizio che posso avere in un contesto enterprise non si può poggiare a un supporto best effort o un livello di punteggio 3 se diciamo ho un maggiore un maggiore supporto da anche degli utenti del prodotto e degli sviluppatori del prodotto o livello 5 massimo se ho dei service provider che mi forniscono questo servizio perché ovviamente a questo punto ho un un rapporto con questo prodotto che è indistinguibile rispetto a quello che ho con un prodotto commerciale dal punto di vista del supporto allora questi che abbiamo visto sono degli indicatori di prodotto poi ho degli indicatori applicativi gli indicatori applicativi riguardano i requisiti quindi è qualcosa che non riguarda solo il prodotto ma riguarda l'utilizzo specifico che ne voglio fare e per ciascuno di questi requisiti diciamo insieme al cliente noi dobbiamo dare un peso di importanza per cui il cliente diciamo colui insomma a cui sto proponendo l'utilizzo del determinato open source darà un valore 1 per il requisito che non fosse importante o non rilevante o 5 al requisito che fosse insomma estremamente estremamente importante quindi ho due dimensioni da una parte diciamo qualcosa che mi permette di valutare il prodotto in sé prodotto in senso lato quindi abbiamo detto il prodotto la community la facilità di utilizzo e quant'altro da una parte diciamo ho un profilo di requisiti che devo concordare col cliente per capire l'adattabilità a quel prodotto quindi alla fine il processo OSMM come si può strutturare allora si parte da una ricerca e selezione dei prodotti ad esempio abbiamo visto le direttori potremmo prendere direttamente per l'ambito target quelli che hanno un maggior rating nelle direttori open source e poi su questi fare un raffinamento successivo valutare gli indicatori di prodotto quelli che abbiamo visto prima valutare gli indicatori applicativi cioè dell'adozione del prodotto nel particolare contesto quindi dare un profilo di pesatura a quei requisiti in base a quello che ha l'esigenza del cliente e quindi fornire il giusto peso e infine diciamo incrociare le due viste per produrre quello che è diciamo maggiormente indicato per il cliente ovviamente se tutto questo noi lo stiamo facendo nell'ambito di una software selection più ampia il software open source è scelto sarà quello che entrerà nella software selection che lo vede affiancarsi ai prodotti commerciali se vogliamo fare un esempio diciamo un esempio abbastanza veloce ecco immaginando di avere due prodotti A e B che hanno questi che hanno diciamo conseguito questi punteggi sui diversi aspetti ecco da questa rappresentazione avremo che il prodotto B diciamo è il più maturo se valutato diciamo in isolamento e quindi ecco se lo vediamo qui rappresentato su un diagramma radar o di Giviat insomma è quello che ha il perimetro più ampio poi che succede per quanto sia più maturo non è detto che sia più che sia il migliore per il caso specifico se diamo diciamo il valore di peso e il punteggio all'applicabilità vediamo che il prodotto A è quello che meglio fitta diciamo i requisiti del cliente il metodo dice a parità ovviamente di maturità nel senso se tutti e due prodotti superano una certa soglia di accettabilità di maturità e in questo caso diciamo si assume che la soglia sia superata per entrambi anche se il B è più maturo si sceglie ovviamente quello che ha una maggiore diciamo aderenza ai requisiti espressi dal cliente vedete la diciamo l'adozione di questo metodo è piuttosto semplice un suggerimento il suggerimento dall'esperienza è quello ovviamente di non partire con un numero molto ampio di open source e cercare quindi di partire ad adottare questo metodo quando già siamo riusciti a fare un filtro ad esempio o con le società di analisi tipo Gartner ad esempio oppure con le direttori che danno già un rating quindi arrivare con una short list no? e motivare la short list al cliente fornendogli le evidenze e su quella short list applicare e far vedere l'applicazione di questo modello o di altri di questo tipo questo per cercare di rendere più oggettiva diciamo la nostra scelta perché diciamo quello che in questo contesto di rischi incertezze e barriere vuole qualcuno che sta l'utente è diciamo avere il conforto di una scelta il più possibile razionale e presa in maniera ponderata insomma dall'esperienza un altro diciamo un'altra metodologia più articolata ecco solo una slide è la QSOS in cui il processo di assessment è diciamo addirittura iterativo per cui facciamo diverse iterazioni la metodologia mette a disposizione già dei mette a disposizione anche dei tool per rappresentare l'assessment che sono tutti in formato XML e ci sono moltissimi assessment già fatti disponibili per cui ad esempio qui riporto quello di MySQL andate a vedere sul sito è possibile avere in questo formato diciamo forse esteticamente discutibile ma perché diciamo si tratta del rendering di un XML avere tutte le valutazioni sui diversi ambiti con una sezione generica che ha degli attributi simili all'OSSM di Capgemini e con delle sezioni specifiche per il particolare asset che stiamo valutando quindi in questo senso diciamo questa metodologia è più articolata più complessa da condurre in un assessment ma ovviamente tiene in conto moltissimi altri moltissimi altri aspetti ecco per esempio qui la sezione generica è esplosa vedete si trovano moltissimi degli attributi che diciamo vengono trattati anche in OSSM va bene codemotion per l'esplosio